Eccoci nell'orto, quest'anno siamo un po' indietro, non ha fatto altro che piovere, abbiamo messo solo un po' di baccelli, aglie e cipolle, però abbiamo lasciato i fiori spontanei che vedete, tipo margherite, o i fiori delle rape o del cavolo nero, che servono agli insetti impollinatori, tipo le api, i bombi ed altri insetti, anche le farfalle, gli servono per sopravvivere. E per impollinare i frutti che abbiamo, però come fiori abbiamo anche i fiori dei baccelli, che sono già cresciuti, questi li abbiamo seminati a dicembre ed ora sono già in fiore. Eccomi sotto il susino, sono insieme agli insetti impollinatori che mi girano intorno. Questi sono già tutti in fiore, ecco gli insetti impollinatori a cosa servono, servono a impollinare questi fiori che daranno poi frutti. Quando non ci saranno più questi insetti che stanno scomparendo, saranno veramente dei grossi problemi. Pensiamoci bene a queste cose. Ecco una pianta che mi piace tantissimo, è la borragine, sia da adoperare per mangiare che per vedere i fiori che sono bellissimi. Anche queste servono da impollinatori, queste sono piante che nascono da sé, si può dire. Io ne ho messe due anni fa, ora ce n'è un'infinità. Ma sono veramente belle. Ecco il rosmarino fiorito, anche questa è una pianta che attira tantissimi insetti e serve veramente a tanto. Sono a ricalzare gli agli e le cipolle che avevamo già messo. Ora dobbiamo aspettare che si asciughi il terreno perché dopo tutte queste piogge per fare i trapianti e le semine ci vuole la terra asciutta. Speriamo bene. Ciao, alla prossima!